Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV Siti. In apertura l'emergenza sanitaria. Ieri quattro decessi a Torre del Greco. Intanto i sindaci chiedono più unità per rafforzare i controlli. Poi la politica cittadina. Ieri sera il Consiglio Comunale a Torre del Greco passa la mozione sul teatro comunale. Ma restano le polemiche sulla nuova giunta. Spazio alla cronaca con l'operazione congiunta di Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Che ha portato all'arresto di 18 persone per riciclaggio, corruzione e reati ambientali. Torre del Greco avvolta nella nebbia. Guardiamo le immagini dello strano fenomeno di questa mattina. In chiusura i lavori per la messa in sicurezza dell'ascensore a Torre del Greco. Questo e molto altro. Guardiamo i servizi. Altra giornata nera ieri per Torre del Greco. Nell'ultimo comunicato del Centro Operativo Comunale è stato confermato il decesso di quattro cittadini, rispettivamente i 74, 62, 79 e 90 anni. Sono pochi, tuttavia, i nuovi positivi rispetto ai giorni scorsi. 27 case di positività riscontrati a fronte ai 97 nuove guarigioni. Bomb di contagi, invece, a Castellamare e Stabbia, dove sono 92 i cittadini risultati positivi al coronavirus, solo nella giornata di ieri. Tra i nuovi contagiati ci sono 11 piccoli tra i 1 e i 9 anni, 11 ragazzi tra i 10 e i 17 anni e due persone di 83 e 85 anni. Sono stati lavorati complessivamente 359 tamponi, 37, invece, i guariti, tra cui in 15enne un 92enne ed un 85enne. Paura per la variante inglese a San Giorgio a Cremano, dove un caso rientrante nella nuova tipologia di virus è stato riscontrato in un alunno della scuola Don Milani, chiuso il plesso scolastico e tutta la classe in quarantena. Intanto, i sindaci di Portici, Ercolano, Torre del Greco, Cercola, Somma Vesuviana, Napolena Trocchia, Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio e Volla, hanno scritto una lettera indirizzata al Ministro dell'Interno, al Prefetto e al Questore di Napoli. Consci dell'impossibilità da parte degli uomini e delle forze dell'ordine, seppur con turni massacranti, di monitorare adeguatamente l'intero circondario, hanno chiesto maggiori unità per il controllo del nostro territorio, per far rispettare le nuove disposizioni per limitare i contagi, soprattutto ora che la campagna è di nuova zona arancione. Approvato il Teatro Comunale, ma bufera sulla nuova giunta Palomba. Il Consiglio Comunale di Torre del Greco, riunitosi ieri sera in sessione ordinaria, ha approvato la mozione sul Teatro Comunale di Michele Langella, presidente del Gruppo Consiliare Alleanza Democratica per il Fare Civico, protocollata a firma congiunta dei consiglieri Aniello Formisano, Anna Laura Guarino e Lucia Vitiello. La proposta era quella di munire la nostra città di un pollo artistico e culturale da utilizzare per eventi e progetti. Ovviamente l'iter per la realizzazione richiederà anni. Il primo passo è quello di scegliere una sede. Con l'approvazione di quest'ordine del giorno, si impegneranno gli uffici a fare una manifestazione di interessi per recepire una struttura o realizzare il teatro. Individuata la struttura, si procederà al fitto o all'acquisto. Duro invece, sempre nella seduta di ieri, l'attacco dei consiglieri Caldarolo e Guarino sulle vicende che hanno portato alla nomina dell'attuale giunta. Entrambi hanno ricordato che il sindaco viene eletto direttamente dal popolo e che quindi un accordo politico che non rispetta la volontà popolare è illegittimo. Il riferimento è ovviamente al nuovo esecutivo, che riunisce forze di maggioranza ed opposizione. Oltretutto vengono sollevati i soliti dubbi sulle nuove deleghe, in particolare per quella di Maria Pirozzi, assessore alle politiche sociali, su cui graverebbe un presunto conflitto di interessi. Il sindaco Palomba rimarca Caldarola o è ostaggio di chi ha scelto il nuovo esecutivo o è complice di un inciucio politico volto ad ottenere poltrone. Stamattina il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Questura di Napoli, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 18 persone. I soggetti sono tutti responsabili, a vario titolo, dei reati di corruzione, riciclaggio, inquinamento ambientale, emissione di fatture per operazioni inesistenti e trasferimento fraudolento di valori. Contestualmente sono in corso sequestri di immobili, società e denaro contante per un valore di oltre 4 milioni di euro. Torre del Greco avvolta dalla nebbia. I cittadini questa mattina si sono trovati davanti immagini surreali. La nube bianca sembra essere arrivata dal mare. I primi a notarla sono stati alcuni pescatori al porto. La nebbia ha reso impossibile vedere anche edifici come Palazzo Baronale. La nube è presto arrivata alle strade cittadine, in particolare nel centro. Persino l'intera figura del Vesuvio è diventata invisibile. Le immagini provenienti da balconi e finestre torresi mostrano la città avvolta dall'enorme nuvola bianca. Come è possibile notare dalle immagini, la nebbia si è concentrata principalmente su tutto il versante costiero, arrivando fino al tratto di Castellammare. Un fenomeno ancora più singolare se si considera che a Napoli splende il sole da tutta la mattinata. Ovviamente i social si sono già scatenati, in tanti hanno già pubblicato foto e video della strana nebbia torrese. Lavori all'ascensore della Villa Comunale Il dirigente dell'ufficio tecnico, il Comune di Torre del Greco, ha annunciato con una nota che sono iniziate attività manutentive all'impianto dell'ascensore pubblico di Piazzale Cesare Battisti, sito nella Villa Comunale Vincenzo Ciaravolo. Nello specifico, gli interventi, utili a garantirne un incremento della sicurezza e delle condizioni di utilizzo, si sono resi necessari anche a seguito ai recenti atti di vandalismo e sono finalizzati a prevenire il deterioramento e il deturpamento della struttura mobile. I sessi, pertanto, consisteranno nella posa in opera di griglie metalliche di protezione ai cristalli e di pensiline e coperture alle porte di accesso a livello intermedio e superiore. Nonostante le attività in corso, si comunica che la funzionalità dell'impianto resta invariata nei consueti giorni ed orari in modo da non arricare disagi ai cittadini. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani per una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale. Grazie a tutti.